bella rega qua è savi iscriviparla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi del canale raga oggi metodo nuovo after patch per fare rp massivi sfrutteremo il peyote vi lascerò la mappa a fine video ragazzi oppure per andare a cercare su google scrivendo posizione periodo requisiti ci servirà semplicemente una granata tante granate ragazzi queste qua queste che esplodono lanciandole così e poi raga ci servirà anawak o comunque sia qualcuno in mira diversa dovremo lanciare la granata quindi farla cadere qui dal peyote e poi dovremo essere veloci a cliccare il menu di pausa e con lb ragazzi o l1 se giocate da ps andare subito sul microsoft store quindi sullo store ragazzi dopo di che cliccare a ox e stare in questa schermata quindi adesso vi faccio vedere come dovete fare i ragazzi i requisiti sono questi quindi iniziamo subito ci prepariamo con la granata in mano e ragazzi ora lanciamo ora lasciamo cadere da queste parti quindi apriamo subito il menu di pausa e andiamo sullo store in questo momento ci vedremo ragazzi esplodere adesso dovremo partecipare su anawak o su qualcuno in mira diverso dalla nostra ragazzi accettare il primo messaggio rifiutare il secondo messaggio ragazzi e se succede questo il glitch non è riuscito allora ragazzi il glitch riesce solo se quando spawnate spawnate che siete praticamente morti e lo stesso vi potete muovere adesso vi farò vedere il trick completo non è riuscito a me raga perché non sono stato abbastanza veloce nei movimenti quindi lascio cadere la bomba ragazzi tenendo premuto option rilascio option vado sullo store clicco una volta come vedete sotto sono esploso quando sono in questa schermata partecipano su anawak accetto primo messaggio e rifiuto il secondo messaggio questo punto come vedete rispa uno in piedi ragazzi e devo essere veloce a correre vicino al peyote e spammare la freccia destra per prenderlo quindi a questo punto il glitch consiste a fare questi passaggi ma velocemente adesso vi farò vedere la parte funzionante quindi metto qua faccio cadere la bomba tenendo premuto option appena la bomba accade rilascio option si apre quindi il menu di pausa raga e switchiamo fino allo store a questo punto clicchiamo una volta a o x e in questa schermata raga partecipiamo su qualcuno in mira differente come anawak accettiamo il primo rifiutiamo secondo corriamo verso il peyote e spammiamo freccia destra ragazzi come vedete farà un paio di schermate bagate e una volta che finirà tutta la cazzim raga ci darà i rp e potremmo rifarlo massimo perché il peyote risulterà non preso raga e possiamo farlo in eterno e in solo ragazzi quindi adesso vi faccio rivedere che io lo rifaccio subito ragazzi è semplice bisogna solo capire un attimo il timing e prenderci la mano con i tasti dopodiché volate e per chi è raga a rango basso che ha iniziato da poco o vuole portarsi di livello su perché non ha niente da fare con l'account raga lo può fare facile veloce e indolore quindi adesso ve lo faccio rivedere prendo la granata faccio cadere la granata tenendo premuto il menu di pausa appena la granata cade rilascio il menu di pausa con lb o l1 switch fino a microsoft store clicco una volta aux ragazzi e a questo punto saremo esplosi adesso partecipiamo su anawak e una volta che siamo su anawak accettiamo il primo e rifiutiamo il secondo corriamo verso il peyote raga e avremo rifatto gli rp infatti come ben vedete una volta che finisce la cazzim che finite sotto mappa con l'animale raga che è una figata vedrete salire la vostra barra degli rp niente raga io spero che questo video vi è piaciuto che vi è stato d'aiuto lasciate un like lasciate un commento supportate savix supportate il canale e raga se vi serve la mappa dei peyote andate su google scrivete posizioni peyote gta 5 e trovate la mappa bella raga alla prossima spada